Siamo arrivati al penultimo numero della Ush di Laddins del quest'anno 2020, il numero 50. La nuova edizione si è avuto con la gara e sedes di schi di Gardena e la Valbadia, argomenti che vengono sviluppati nella piatta di attualità, per vedere con che l'estate indrezza la proa stendendo tanto particolare. Belle presto sarà su un'esca in c'è la versione tedesca del vocabolario laddin della Valbadia. Nelle viena è stata il refugio e pian di fiaccons su Marmoleda, se vanno un tocco di storia. Le amò PhDs per s'insinuere al concorso del teatro. Vedo anche che le vengono fuori alla trentesima conferenza della Mendranza Linguistica. del soccorso da Monta l'Itassi e nev Presidente. Della piatta di suoi nel gruppo di discussione della Gorà nella zona del teatro. argomenti toccanti da Daniele Verrat e sia recensione. L'Unione di la Diense di Fascia ha dovuto contattere con l'associazione dei comuni. Terza centena del Comune Generale di Fascia. La cooperativa sociale ha un ristorante particolare e la domanda al didamento della gente. Il ricordo è il Giacomino Pettina. A Moena viene indrezzato i vieti per i giochi. La migliore tradizione che si è mudata il tempo viene ammottato da su con Gaisa. Sottite deschi ogni settemena nel centone del retrato da Andoiner. L'Ali ha mostrato da fare una pubblicazione sulla situazione della pandemia. Vainanti l'Uriere per due tocche neve sul Troi della Rhodes. A Cortina si ha trovato a contenci la piazza per far sentirsi a Ous al governo di Roma. A Reba il Consiglio del Comune ha deciduto mudamente per la fosse. La Sorastanza della Unione di Hotelieri della Valbadia ne dice che la pezza della clausura. La musica d'Arina ne conta di sé attività e in cese peccia per via del virus. E nel defecco le crepà fuori della ultima morizzina la Ila. Del sport trovano i risultati di l'Adins con la Brea Cortina, chi della squadra del hockey, della combinazione nordica e del biathlon. A Moen c'è in conto del bel risultato di Orde Caterina Gantz della Coppa Teglia. Fini un foro in ciò che sto avuta con la rubrica di Gladia de Bertol. Sulla Ush di Ladins ogni vender potete trovare la neve seduta alla Ladinia. Per info e abbonamenti potete viaggiare alla redazione di Fascia su Stradona Saint-Jean. Telefon 0462-74545, mail fascia-laus.it Il sfò interladinia alla letta della bottega di sfò esdeduta alla Valèdes e potete trovare la neve senza online sul sito laus.it. Grazie a tutti! Grazie a tutti!